Succede tutto nel primo tempo. Sex Largius vanno subito in vantaggio grazie a un errore difensivo di Puddu che Ligas sfrutta alla grande. Ma è sempre Puddu a rimediare il suo errore con un missile terra-area che riporta la sua squadra in parità. E Mura a siglare il momentaneo vantaggio per i face-off. E' sempre Puddu con una gran sciabolata da fuori a portare il risultato sul 3-1. Veramente un euro-goal. Inutile il gol di Cabras nel secondo tempo. La partita finirà per 3-2.